Buonasera a tutti, che posso dire? Questo corso è meraviglioso, lo amo profondamente perché in maniera molto semplice e dolce ti permette di capire chi sei, ti permette di scoprire te stessa e ti permette veramente di scoprire qual è la tua missione in questa vita. Non sei di troppo, non sei di più, hai il tuo posto e la tua vita è questa. Grazie. Grazie.